Un progetto che mi rende molto orgoglioso, mille occhi sulla provincia di Pesaro Urbino perché riusciamo a garantire la sicurezza degli imprenditori sia per quello che riguarda l'antirapina, per quello che riguarda l'antintrusione H24, ma anche con un dispositivo di sicurezza proprio per gli imprenditori stessi e i propri dipendenti, quindi davvero una grandissima soddisfazione. D'altro canto riusciamo anche a garantire attraverso le telecamere che sono già installate e quelle che verranno installate in futuro una maggior sicurezza per tutta la comunità del territorio di Pesaro Urbino. Quindi davvero un grande progetto fatto in collaborazione con due aziende di caratura nazionale SB Company e Secure Shop by GECOM che ci permettono con la loro esperienza, visto che hanno installato questo dispositivo già dentro ovviamente le sale operative dell'arma dei carabinieri e della Polizia di Stato in oltre 200 posti. Quindi questo ci garantisce la grande qualità e serietà di questo progetto che oggi in questa partnership con grande orgoglio ripeto presentiamo. Sono diverse centinaia le aziende che già stanno aderendo a questo nostro progetto. Ovviamente oggi lo presentiamo in maniera ufficiale, quindi da oggi stesso partirà una campagna informativa molto specifica che speriamo abbia il risultato che merita, perché questa è anche una grande e importante iniziativa che la CNA di Pesaro Urbino mette a favore della collettività, perché la sicurezza in un momento economico così delicato è molto importante. Viviamo in una provincia relativamente tranquilla, questo è un progetto che deve assolutamente servire perché la provincia rimanga tale e quindi noi con grande orgoglio oggi siamo qui in questo grande lavoro che come sempre vede la CNA di Pesaro Urbino in prima fila. Ringrazio innanzitutto CNA che ci ha dato questa opportunità di sbarcare anche su Pesaro, dove già siamo presenti con una piattaforma installata presso la sala operativa della Questura. Stiamo verificando adesso le pratiche anche per poterla estendere anche ai carabinieri, come avviene un po' in tutta Italia. Noi abbiamo 204 piattaforme installate su sale operative di carabinieri e polizia e rendiamo appunto questa possibilità di gestire il servizio di non solo teleallarme, teleallarme sì antirapina, ma anche gestione del servizio notturno, dando la possibilità per quanto riguarda l'evento diurno di rapina di mandare direttamente le immagini alle sale operative delle forze dell'ordine che gestiscono moto proprio l'intervento. E questo gli dà un grosso vantaggio, perché è il vantaggio di poter comunque vedere in diretta la gestione dell'intervento, quindi di che tipo di intervento devono fare. Per quanto riguarda il notturno invece c'è una sala operativa, perché il TULPS stabilisce questo, che filtra l'eventuale intrusione notturna e nel caso che l'intrusione sia reale viene poi trasferita alle sale operative di competenza. Grazie a tutti.